Musica Si parla di aeroporti toscani in apertura della seduta del Consiglio regionale dell'8 novembre. Al centro del dibattito il piano di Enac che non contempla il Galilei, a differenza del Vespucci, tra gli scali strategici italiani. Va inserito anche l'aeroporto di Pisa tra quelli strategici. Lo chiede la mozione presentata dal PD e votata all'unanimità dai presenti. Il gruppo del Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto. Primo firmatario il consigliere Andrea Pieroni. Nel testo si chiede al Presidente della Regione, Gianni, di attivarsi per presentare entro il 21 novembre un'osservazione ad hoc ad Enac. Laddove si vada a colmare quella che io credo sia una lacuna, anzi una stortura, laddove non si preveda che per quanto riguarda il sistema aeroportuale toscano, siano entrambi gli scali, cioè Firenze e Pisa, ad essere considerati strategici. Così è nel piano nazionale degli aeroporti vigente, tra l'altro approvato non molti anni fa, nel 2015, per cui dobbiamo evitare che si lasciano cose non dette o zone grigie. Quindi chiediamo al Presidente Gianni di presentare un'osservazione nei termini prescritti, affinché si chieda al Ministero e alla direzione degli aeroporti che venga ripristinata La previsione è che gli aeroporti strategici della Toscana siano Firenze e Pisa, perché proprio nel 2015 è stata fatta la scelta della fusione delle società, è stato individuato un gestore unico e questa volontà ha determinato che Firenze e Pisa fossero insieme aeroporti strategici della Toscana e dell'Italia centrale. La nostra posizione è che il sistema aeroportuale toscano possa lavorare insieme, in maniera congiunta. Firenze e Pisa sono di fatto uno scalo unico, si è concepite nel contesto europeo, serve rafforzare Firenze, serve fare la nuova pista per rendere più competitivo l'aeroporto del capoluogo, integrarlo sempre di più con Pisa e costruire un sistema aeroportuale toscano che sia in grado di competere a livello nazionale ed internazionale. La mozione, come detto, passa anche con i voti del centro-destra. Sì, tanto si è dibattuto in queste settimane perché il piano nazionale degli aeroporti ha tolto Pisa come aeroporto strategico della Toscana e ha lasciato esclusivamente Firenze. Abbiamo discusso ora una mozione e all'interno della mozione abbiamo portato un emendamento dove chiediamo alla giunta regionale che presenti delle osservazioni al piano nazionale degli aeroporti che riporti Pisa a fianco di Firenze perché noi riteniamo che entrambi gli aeroporti soltanto in sinergia, insieme, sono strategici per la Toscana. Non c'è un aeroporto di serie A o un aeroporto di serie B. Ogni volta che parliamo di aeroporti in Consiglio regionale tende a riaffermarsi sempre questa sorta di campanilismo che vede Firenze e Pisa quasi contrapposte. Io credo che oggi sia stato chiarito in modo inequivocabile come per parlare di sviluppo della Toscana si debba parlare necessariamente di un sistema aeroportuale integrato. Io credo che su questo non si debba più tornare, anzi, credo che tutte le forze politiche debbano unire il loro sforzo nel cercare quanto più di sollecitare da parte di ENAC ma anche da parte del nuovo governo, un intervento tempestivo che metta una parola decisiva sia su Peretola, perché non possiamo continuare a fare a meno a Firenze un aeroporto che stia dentro di questo nome e quindi di un piano di investimenti serio sia naturalmente su ciò che riguarda Pisa. Noi dobbiamo parlare di un sistema aeroportuale integrato. Per Fratelli d'Italia il Presidente della Giunta deve anche pretendere da Toscana Aeroporti un cronoprogramma chiaro per il potenziamento dell'aeroporto di Pisa. Se è vero, come ci stanno dicendo ormai da anni, che il sistema aeroportuale toscano è un sistema complesso all'interno del quale stanno sia lo scalo di Firenze che lo scalo di Pisa noi chiediamo che la Regione Toscana si faccia portavoce nei confronti di ENAC di inserire anche Pisa tra gli aeroporti strategici italiani. Dopodiché la cosa fondamentale sulla quale noi vogliamo delle risposte chiare è che Toscana Aeroporti presenti il cronoprogramma rispetto al piano attuativo del masterplan dell'aeroporto di Pisa. È inutile presentare un masterplan dove si dice che cosa si farà a Pisa se poi non partono i lavori e se non ci viene detto in maniera chiara quando questi lavori devono partire. Questo dibattito attacca il Movimento 5 Stelle che non ha partecipato al voto dimostra la mancata chiarezza all'interno della maggioranza. ed è inaccettabile che non si sia avuto una risposta a un'interrogazione innanzitutto dove si chiedeva una cosa chiara. La bozza del piano aeroporti dice che Pisa non è più aeroporto strategico nonostante le promesse di molti anni mentre Firenze lo è. Fino al 21 novembre c'è la possibilità di presentare delle osservazioni ad ENAC per questo e tutto ciò che ci siamo sentiti dire dal presidente Gianni è che è stato un errore terminologico e che semplicemente tutti noi non abbiamo capito quello che in realtà voleva dire il piano, solo lui l'aveva capito e noi ci stiamo attaccando in questo momento a questioni di lana caprina legate a Guelfi Ghibellini piuttosto che a un'incomprensione di quelli che sono i testi. Ecco noi diciamo che i toscani si sono stancati di sentirsi prendere in giro dal presidente di una giunta che a distanza di anni nonostante governi nonostante sia legittimato da un voto che è stato preso a suo favore e per il quale lui adesso è presidente non dica chiaramente quale sarà la sorte degli aeroporti di Pisa e di Firenze e non dichiari finalmente quello che è chiaro a tutti che Pisa verrà lentamente declassato e lasciato morire mentre invece sarà prevalente l'aeroporto di Firenze sul quale c'è la volontà pervicace di arrivare alla costruzione di un nuovo aeroporto perché è falso anche parlare di una nuova pista quando sappiamo bene che ci sarà una nuova pista, un nuovo terminal, una nuova viabilità proprio perché sarà cambiata l'inclinazione. Per il presidente Gianni c'è stata però un'interpretazione sbagliata del piano di Enac confermiamo comunque il gioco di squadra per i due aeroporti toscani conclude il presidente della giunta. Ma in realtà se guardiamo bene quel piano vi è l'indicazione dell'aeroporto di Pisa come quello di Firenze e se a un certo punto nelle aree strategiche si identificano l'aeroporto è stato citato quello di Firenze perché è gestito dalla stessa società Toscana Aeroporti che gestisce Pisa e Firenze quindi è stato un po' considerato quello come aspetto di riferimento. Comunque nel documento che abbiamo approvato io sono un fermo sostenitore e chiediamo al ministro Salvini di inserire tra gli aeroporti strategici sia quello di Firenze e Peretola sia quello di Pisa Galilei. L'emergenza idrica in Toscana al centro della comunicazione dell'assessora all'ambiente Monia Monni Alla 30 settembre ha spiegato all'Aula grazie alle piogge sopra la media stagionale di quel mese la situazione volge a leggero miglioramento riguardo alle disponibilità di acque sotterranee per quelle superficiali con la situazione aggiornata a metà ottobre i volumi di risorse immagazzinate nei principali invasi regionali sono ancora lontani dall'obiettivo del ripristino del 90%. Poi ha spiegato come ad oggi il ripristino degli stock di riserva per scongiurare una crisi anche nel 2023 sia solo in una fase iniziale e il suo completamento possa essere garantito solo con piogge superiori alla media fino a tutto il maggio 2023. L'assessora nella comunicazione ha ricordato anche le date il 6 luglio la dichiarazione dello Stato di emergenza regionale da parte del Presidente Gianni il 1 settembre la concessione dello Stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri che ha riconosciuto alla Toscana un contributo di 4 milioni e 300 mila euro. È una questione di sicurezza dunque prioritaria perché durerà nel tempo commenta l'esponente del PD Nicolai. Ed è per questo che come PD abbiamo chiesto un'attenzione particolare alla questione risorsa acqua in rapporto all'agricoltura. L'agricoltura ha chiaramente come fondamento la risorsa idrica ma allo stesso tempo mettere in campo una serie di misure per efficientare l'utilizzo della risorsa gli invasi e tutta una serie di altre misure per evitare che ci sia lo spreco di questa risorsa sempre più preziosa diventa fondamentale. Ecco perché abbiamo chiesto anche all'assessore Saccardi di orientare le risorse del piano di sviluppo rurale che sono in previsione per i prossimi anni molto per sostenere la realizzazione di opere che permettano alla nostra agricoltura di avere acqua e di non sprecarla in nessun modo. Bene, le risorse del governo Draghi hanno permesso di avviare lavori, sottolinea Italia Viva. Serve fare degli invasi, serve ovviamente fare degli interventi serve fare le opere pubbliche e credo che sia positivo il fatto che in alcuni casi si sia già avviata la fase di progettazione rispetto alla realizzazione di alcuni invasi che nei territori possono dare delle risposte ma nel contempo serve anche finanziare interventi di natura privata a favore per esempio delle aziende agricole per cercare di dare risposte autonome e nel contempo aumentare gli interventi da parte dei consorsi e della regione stessa. Ci vuole un piano di investimenti secondo il gruppo misto. Noi non possiamo continuare ad intervenire esclusivamente sotto un profilo emergenziale. Investimenti strutturali, programmazione sono queste le sfide che attendono la Toscana delle quali si sente poco parlare. Continuiamo a parlare di opere importanti che però sono opere che ormai risalgono nei decenni si parla sempre di bilancino ecco il modello bilancino dovrebbe essere un modello che oggi persegue tutta una serie di obiettivi di investimento per la Toscana che però non vediamo. Per Fratelli d'Italia i soldi arrivati alla Toscana serviranno soltanto per opere ordinarie. Senza attaccare invece alcune questioni fondamentali nell'approvvigionamento idrico e anche a scopo agricolo e industriale dell'acqua ovvero sia da una parte lottare agli sprechi alla perdita che in Toscana monta a 178 milioni di metri cubi all'anno circa il recupero ad oggi è arrivato a 38 milioni di queste perdite dall'altra parte irrobustire pesantemente il sistema di invasi medi, piccoli ma soprattutto grandi che affianchino Montedoglio e Bilancino e in particolar modo da questo punto di vista abbiamo rilanciato l'idea della grande diga sul Merse potrebbe dare decine di milioni di metri cubi di acqua soprattutto alla Toscana del Sud idea su cui il Presidente Gianni ha dato disponibilità fermo restando la necessità di un confronto con gli enti locali del territorio. Era un tema, sottolinea la Lega che già a marzo avevamo posto all'attenzione dell'Aula con due obiettivi. Al fatto che dovevamo dichiarare lo stato di emergenza perché già a marzo le associazioni di categoria gli agricoltori ci dicevano che il rischio di siccità era alto il secondo punto era quello che già all'epoca chiedevo l'intervento, un'analisi su progetti di bacini di accumulo siamo a novembre, finalmente la Giunta regionale la maggioranza guida PD ha capito che è un tema che va attenzionato e finalmente oggi ci presenta dopo aver chiesto a luglio, quindi diversi mesi dopo lo stato di emergenza, ci presenta quelle che sono state le attività svolte in emergenza nel periodo estivo e ci dice che terrà e attenzionerà il tema dell'emergenza idrica con la realizzazione, purtroppo non sappiamo ancora quando i tempi saranno lunghi, di bacini di accumulo. Un altro tema che noi abbiamo attenzionato all'epoca che ancora oggi abbiamo sottolineato su cui l'assessore Monni si è presa l'impegno è quello di analizzare le tantissime cave di smesse che sono presenti in Toscana e renderle anche quelle bacini di accumulo perché crediamo che con questi due tipi di intervento non si possa risolvere al 100% il tema dell'emergenza idrica ma si possa dare un grande aiuto a tutta la Toscana. Le difficoltà, secondo il Movimento 5 Stelle, sono dovute anche alla cattiva programmazione da parte della Giunta. E questo cosa significa? Che la Regione, non da questa legislatura ma da quelle precedenti, non ha capacità di programmazione tale da poter prevedere questi interventi ordinari nell'attività e nel bilancio di tutti gli anni. E questo ci ha portato oggi a una grave emergenza idrica, non soltanto il cambiamento climatico. Basti pensare che in alcune aree della Toscana la metà dell'acqua che circola nella rete viene persa all'interno degli acquedotti e che il tubo che collega praticamente l'isola d'Elba e la costa in questo momento è vecchio di 30 anni e potrebbe rompersi da un momento all'altro lasciando l'isola d'Elba senza acqua e in questo momento si sta progettando invece un dissalatore per produrre dell'acqua all'isola d'Elba con grandissimo costo dal punto di vista dell'energia e metterlo in una rete che perde il 43%. Insomma, nessuna capacità di programmazione, nessuna capacità di manutenzione ordinaria al punto che abbiamo perdite gravissime. L'ottimismo che ha manifestato il Presidente Gianni nel commentare e la comunicazione dell'Assessore Amoni è assolutamente inspiegabile. Il Presidente Gianni nel suo intervento ha sottolineato come le opere, come la diga di Bilancino, siano risultate fondamentali per scongiurare situazioni ben peggiori. Faremo una legge specifica proprio per favorire la costruzione di quello che devono essere i serbatoi che contenendo l'acqua ci consentono ad affrontare i periodi di siccità. Del resto i cambiamenti climatici sono un'evidenza così forte nel nostro tempo e oggi ho relazionato proprio sul fatto che abbiamo ottenuto 4 milioni e 2 dal governo ma contemporaneamente appunto le modifiche di legge, la previsione puntuale di interventi che portino laghi, laghetti invasi a calmierare una situazione che altrimenti con quello che sono le modifiche del clima può creare problemi tutti gli anni. Grazie a tutti!